Un clima più da vacanze natalizie che pasquali, anche pasquetta, così come la giornata di ieri all'insegna del maltempo. Parco Manganelli, Parco Santo Spirito desolatamente vuoto, meta abituale degli avellinesi per i picnic all'aria aperta nel giorno di lunedì in Albis, così come poco traffico si registra sul raccordo Avellino-Salerno in direzione Serino, in direzione Monte Terminio, altra location classica di questa giornata. Volevano andare sul Terminio ma loro vengono da Napoli, quindi avevano deciso di venire da noi in montagna. Alla fine abbiamo dirottato, vengono tutti a casa. Dunque pasqua è imprevedibile, è sempre così. È tradizione, se non piove non è pasquetta. Un bel pranzo con queste temperature, un bel antipasto prima, un bel agriturismo al caldo, siamo a posto. Non avevamo organizzato niente, tutti a casa, magari insieme ma a casa. Dove state andando? Costiera. Costiera, quindi non vi ferma neanche il maltempo? No, non ci interessa del maltempo. Ci tenete alla pasquetta? Sì, per forza, perché dopo tutto l'anno di lavoro, almeno un giorno di festa, per la miseria, indipendentemente da se piove o no. Ce lo facciamo. Dopo andiamo a Montimiletta a mangiare coi parenti. Se no che fai, stai a casa senza fare niente. Già abbiamo mangiato ieri, capito? No ci portiamo gli avanzi. Dovremmo andare a Serino con le parti dove stanno le aree. Pic-clic. Esatto, ci proviamo. Però vedo una macchina solo uomini. È capitato, però dopo ci saranno molte ragazze. Però può essere, può essere chi la ci ha chiamato. No, stiamo un sacco di noi unite. Vi ho detto a voi a... Le raggiungete. Esatto, bravo. Se va bene, va bene, se no non fa niente, ci siamo fatta camminata. Noi ci prendiamo un bel caffè caldo e si parte. Auguri! Grazie a tutti.